Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tess. Ho creato una nuova poesia dal titolo Una forte testimonianza. Spero la visualizzerete e condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Una forte testimonianza perché noi siamo dei profondi cattolici e dobbiamo dare un esempio agli altri per far vedere la nostra fedeltà ed eliminare le incertezze altrui. Dobbiamo quindi dare una forte testimonianza per far vedere la nostra fede accisa e a volte ci manca questa fede perché siamo presi da altro e dovremmo quindi potenziare questa testimonianza con l'assiduità nell'andare a messa, nel compiere i precetti e in quant'altro riguardi la divina cristianità. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Una forte testimonianza. Noi, profondi cattolici, dobbiamo essere di esempio per i fedeli incerti che nel mondo cercano un cavillo. Dobbiamo essere forte testimonianza da donare con fede accesa e mostrare in ogni circostanza la nostra esperienza viva e spedita. Una forte testimonianza che porti gli incerti a vederci come meta da raggiungere a tutti i costi con la gioia e forza dell'anima. Una forte testimonianza d'amore verso le giuste rappresentazioni donerà un saggio e sacro vigore che scuoterà anche gli animi più duri. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.